Buongiorno a tutti che mi seguono che mi vedono tutti i giorni video e ho cominciato da poco è stato un traguardo strano YouTube non è un traguardo veloce dove hai possibilità di avere tutto secondo me, come la penso io YouTube deve essere un divertimento in pratica il divertimento deve essere in tutto ciò quello che ami per esempio io per esempio io sono contento sono contento di questi video come sono andati allora noi abbiamo fatto già 4 video e sono andati benissimo non bene ma benissimo allora il primo video che ho fatto abbiamo preso 228 visualizzazioni 6 giorni fa pazzesco io veramente se manca poco l'ultimo video acento anche a me basta che ragazzi lasciate il mi piace iscrivete al canale così porterò tanto mi sto informando come portare FIFA come portare giochi della Playstation più possibile io secondo me il mio canale lo trasformerò in che senso alcun giorno un altro vlog e gameplay che ne so lunedì mercoledì venerdì porterò un vlog o lunedì porterò forse 3 giorni lunedì mercoledì venerdì porterò solo video solo in questi 3 giorni oppure una domenica mettiamola o sabato lunedì io il lunedì porto sempre il video come oggi lunedì io ho perso già i file oggi lunedì proprio oggi lunedì io ho caricato il video sabato venerdì uno sabato sera ho caricato un video e l'ho perso mi è uscito il video che è già registrato ma se questo video non si registra mi sento male speriamo che si registra che perché allora su questa videocamera che sto registrando adesso tengo mi escono due video io su questa videocamera che sta dicendo adesso tengo video salvati quando li carico mi escono due video che non posso eliminare e secondo me da lì tengo i video salvati ho la micro sd che devo levare devo prendere un'altra micro sd giacerò di 16gb e non lo so non so più che fare speriamo che questo video si registri e so che ho cambiato anche la postazione adesso di dove registrare ma come vedete anche meglio non devo prendere la videocamera in questi giorni sarò forse a Napoli per registrare alcuni video che mi stanno venendo in mente sto progettando tutto in questi giorni sto vedendo parecchie parecchie io non sto pensando a youtube tanto e perché ci sto lavorando sicuro su questi giorni sto vedendo sempre youtube ogni giorno vabbè anche se non ho un canale io ho i video degli altri che vedevo mi piace mi piacciono parecchi youtube mi piacciono ancora seguo tanti tantissimi youtube che sono famosi e non sono tanto famosi su youtube però per esempio il primo video il primo video che avevo fatto avevo reso 228 visualizzazioni 12 mi piace è un dislike e ragazzi 228 visualizzazioni 6 giorni fa 6 giorni fa e 237 ragazzi se questo video arriva a se questo video arriva a 50 mi piace a 50 mi piace e il mio instagram che lo lascio in descrizione arriva a 5900 follower farò uno speciale pazzesco pazzesco farò uno speciale secondo me che primo speciale che posso fare nel mio canale speriamo che sia bello però dovevo lasciare questo mi piace e dovevo andare su instagram e seguire tantissimi mancano una sessantina di follower e facciamo anche questo video e poi e poi se il mio instagram arriva anche se si arriva a 6000 decido uno speciale una crossbar challenge non lo so non lo so buoni commenti però a 6000 follower 5900 decidere io con 50 mi piace 6000 follower no decidere voi comunque ragazzi mo vi voglio far vedere i miei video come come sono stati messi come come sono i miei video vabbè penso se non avessi video ragazzi andate a vedere se no schiaffi comunque ragazzi 24 di video non vi faccio vedere un attimo video vabbè vieni vieni video ragazzi vedete qua 228 views incredibile 228 views e 12 mi piace 11 racchi poi qua ce n'abbiamo 95 views 125 143 ragazzi è pazzesco secondo me è pazzesco tanto tanto bello vedete qua raga è pazzesco è pazzesco perché ragazzi farò questo qua 100 views che mi faccia una barra di 100 e già mi sento male ragazzi penso che questo video può finire qua lasciate questi 50 mi piace andate sul mio instagram a seguirmi lascio il link in descrizione ragazzi penso che questo video vi sia piaciuto bello grazie